Buonasera, benvenuti al tradizionale incontro con la CISL. Stasera parliamo di riforma della sanità di Regione Lombardia, critiche proposte con Paola Gilardoni di CISL Lombardia. Benvenuta. Buongiorno, buongiorno. Perché riforma della sanità? Perché è in discussione in Regione questa riforma della sanità, una quattro giorni intensa in Consiglio regionale in cui l'Aula del Pirellone i consiglieri dovranno approvare o meno, vedremo come andrà a finire, perché ci sono molti emendamenti questa riforma. Una riforma che è stata molto criticata dal sindacato e dai sindacati confederali perché dicono che è il frutto di un compromesso a ribasso, il risultato di una confusa e continua a ricerca di mediazione tra i gruppi di maggioranza. Ne parliamo con Paola Gilardoni che approfondirà questi temi. Se volete telefonare allo 0248010921 potete farlo per dire la vostra in proposito. Gilardoni, allora? Sono stati critici perché c'è stato un libro bianco su cui avete discusso, però poi i contenuti sono tutti diversi. Noi ormai è un anno che si sta discutendo di percorso di riordino del sistema sanitario lombardo. Non siamo contrari a prescindere, tanto che a settembre dello scorso anno abbiamo siglato col Presidente di Giunta e con gli assessori un'intesa appunto nell'ottica di un riordino e una revisione del sistema sanitario. Abbiamo delle posizioni critiche rispetto a degli elementi concreti e delle proposte altrettanto significative e interessanti per provare a concorrere al miglioramento del sistema. Quindi non è una opposizione a prescindere del sindacato, è un'espressione di criticità pesante e significative rispetto a elementi e contenuti che vanno rivisitati, risistemati e noi auspichiamo che ci siano spazi e tempi per aggiustare. Allora che cosa non va e che cosa proponete a questo punto? Parliamo di linee generali ovviamente. Cominciamo a dire che cosa magari va, nel senso che noi abbiamo visto nell'arco di un anno appunto testi e orientamenti che si sono sviluppati e che hanno, si sono modificati nel tempo e alcune modifiche abbiamo anche, le abbiamo accolte, le abbiamo apprezzate. È chiaro che il percorso di riforma e di riordino lo vediamo come opportuno nel senso che c'è necessità di rafforzare quella parte del nostro sistema che è un sistema che evidenza alcune eccellenze soprattutto nell'ambito ospedaliero, elementi che vanno invece nella necessità appunto di un loro rafforzamento, loro intervento, in particolare il tema dell'integrazione del rapporto tra ospedale e territorio, elemento fragile e debole del sistema attuale che va appunto perfezionato. Questo è l'obiettivo del percorso di riforma che noi condividiamo, quindi questo è un elemento positivo. Quali sono gli elementi invece che vediamo con criticità e sulle quali poniamo attenzione? Innanzitutto noi riconosciamo che nel percorso di riordino si sono confermati alcuni principi del precedente sistema, il principio della libertà di scelta del cittadino, il principio della separazione del soggetto che acquista le prestazioni rispetto ai soggetti che rielogano, quindi l'ASL rispetto alle strutture ospedaliere. Sono introdotti a nuovi concetti, nuovi principi sui quali chiediamo una maggior attenzione, in particolare il riferimento alla separazione, al meglio all'aggregazione delle nuove ASL in ATS, quindi le ASL si accorperanno sui territori in queste nuove aggregazioni aziende di tutela della salute, noi evidenziamo la necessità che questa evoluzione segua il riassetto dei confini dei nuovi livelli istituzionali perché è importante una forma di coordinamento per i cittadini di modo che non siano desorientati rispetto ai livelli di governo del territorio. Il tema della libertà di scelta del cittadino che noi confermiamo come principio fondante del sistema, a questo principio viene introdotto un altro concetto, il tema della presa in carico che noi riconosciamo come opportuna, necessaria, nel senso che soprattutto i cittadini in condizioni di fragilità, in alcuni casi fragilità sanitaria si accompagna a fragilità sociale, a una difficoltà economica complessiva della famiglia, quindi un bisogno di continuità assistenziale va assicurata e garantita dal sistema. Attenzione che la garanzia della continuità non diventi un meccanismo, un sistema per impegnare eccessivamente o imporre al cittadino modelli di cura che invece o non sono appropriati o sono ingerenti rispetto anche alla sua libertà di scelta del soggetto da cui farsi curare. Questi sono alcuni elementi. Poi ci sono elementi di governance che vanno a nostro avviso ricorretti, in particolare proprio il tema dell'aggregazione delle ASL in ATS ha necessità a nostro avviso però di confermare sul territorio un'articolazione di ambito e di distretto, proprio perché c'è necessità di assicurare una forma di vicinanza tra il cittadino e il luogo fisico, il luogo in cui l'articolazione, presso cui il cittadino, la persona ha necessità di trovare una risposta ai propri bisogni, perché deve aver identificato chiaro quali sono i suoi interlocutori. Secondo voi quindi l'abolizione dei distretti indebolirebbe la prospettiva di integrazione con i servizi sociali? Nel testo non è evidenziata l'articolazione distrettuale come invece tra l'altro è una previsione normativa ed era anche prevista nell'attuale sistema. Abolire, superare i distretti o indebolirne, allargarne i confini e indebolirne poi il ruolo significa a nostro avviso ridurre il rapporto con la rappresentanza territoriale e allontanare appunto il servizio dal cittadino che ne ha necessità. Ecco, voi vi chiedete dov'è il potenziamento dei servizi territoriali quindi? I servizi territoriali, le nuove aggregazioni... Vi chiedete e lo chiedete ovviamente a chi la... L'aggregazione delle ASST che è la somma, l'aggregazione delle aziende ospedaliere e che vedono questa aggregazione inserite e collocate tutte quelle attività che ad oggi sono erogate dalle ASL, pensiamo all'attività dei consultori, all'attività della medicina preventiva, queste attività passerebbero dalle ASL a queste nuove strutture sanitarie, aziende sociosanitarie e territoriali. Questo va bene perché è una modalità appunto per integrare ospedale e territorio, l'elemento di criticità e la preoccupazione dove sta il rischio è che vediamo, non vogliamo vedere però una dequalificazione del sistema e della rete ospedaliera. Questa aggregazione deve tenere in attenzione le due necessità, quindi rafforzare il bisogno di un maggior equilibrio tra ospedale e territorio per assicurare continuità assistenziale alle persone e ai cittadini, dall'altra parte però bisogna mantenere, assicurarsi l'eccellenza, il valore del sistema ospedaliero per come l'abbiamo conosciuto anche in considerazione dell'evoluzione normativa in atto, nel senso che gli ospedali dovranno ridefinire i livelli di intensità di cura al proprio interno e tra strutture ospedaliere per appunto garantire forme di continuità nei percorsi di cura. Queste attenzioni vanno poste nella riforma e noi crediamo soprattutto poi nel percorso di attuazione. Certo. La vostra idea, il vostro commento, le vostre riflessioni sugli accorpamenti, i cosiddetti accorpamenti, cioè il buzzi che uno vorrebbe portare al sacco, l'altro vorrebbe portare al fate bene fratelli. Noi quando abbiamo seguito i confronti in regione con gli assessorati abbiamo evidenzato una necessità, cioè che fossero chiari i principi di efficacia, efficienza, di organizzazione, che fossero questi gli elementi, i criteri in relazione ai quali costruire le nuove aggregazioni. Quindi se sono funzionali va bene, altrimenti lasciamo perdere. Perché quella ha la ragione. Il buzzi sta funzionando. E quella ha la ragione, bisogna rispondere, perché quella ha la ragione, da riscontro, di efficienza sul territorio, certo, e da un accanto e dall'altra parte anche rispondere a condizioni di efficacia, efficacia, efficienza economica e buona funzionalità in rapporto al territorio. Questi sono gli elementi che abbiamo messo in evidenza come necessità, come guida per le scelte. Le logiche, sembra di capire, che insomma faticano in questo senso. Ecco, avete fatto un lavoro di insieme di sinergia, una sinergia con le opposizioni. Siete riusciti a fare un dialogo non tanto con la Giunta, perché dite che non c'è stato quello con la Giunta. Noi abbiamo fatto un accordo con il Presidente. Un anno fa, sì. Meno di un anno fa, a settembre, meno di un anno. L'accordo con il Presidente prevedeva contenuti e metodo di lavoro. Nel metodo di lavoro l'impegno è stato quello di seguire lo sviluppo. Abbiamo realizzato un confronto successivamente, nel mese di maggio, con il momento di una sintesi, perché noi ci siamo a certo punto trovati con molteplici progetti di legge in Commissione Terza. Noi abbiamo evidenzato la necessità di confrontarci sulla sintesi, almeno di un progetto, perché il confronto avesse efficacia. Ci siamo trovati nel mese di maggio. Questo confronto però non ha portato ai risultati, agli obiettivi che auspicavamo. Proprio perché evidenziamo quelle necessità e quelle fragilità che ritroviamo ancora ad oggi nel testo, nella proposta di legge. Ecco, per quanto riguarda... parte attenziona e sulla quale noi chiediamo una delicatezza e un riconoscimento particolare. E mi faccio riferimento su questo tema in particolare al tema del personale, cioè alle lavoratrici e ai lavoratori che concorrono al sistema. Il testo prevede tutto un articolo in riferimento al tema del personale. Noi però evidenziamo questo elemento, che in questi anni l'evoluzione del sistema delle relazioni sindacali nella nostra regione è stata importante, significativa e noi crediamo che proprio anche le relazioni sindacali abbiano concorso con gli impegni assunti, i percorsi realizzati, abbiano concorso a realizzare anche quell'efficientamento del sistema che è insomma sotto gli occhi di tutti. Noi vorremmo riconoscimento rispetto al percorso realizzato, impegni affinché ci sia nel percorso di riorganizzazione altrettanto definiti momenti di confronto perché poi dovranno essere poi declinati tutti gli atti e i principi della riforma in atti successivi e quindi le riorganizzazioni, il tema del personale rispetto alla ricollocazione andrà affrontato, percorsi di qualificazione professionale, percorsi anche legati all'evoluzione delle figure professionali. Questi sono tutti temi che devono essere posti come principio e poi declinati nella contrattazione collettiva. Questo è l'approccio che noi vedremmo opportuno nella riforma. Si è discusso anche di un unico assessorato, superassessorato al welfare, così si dice, da affidare a un tecnico o comunque da affidare comunque a un esponente o politico o tecnico. La vostra posizione su questo superassessorato? Diciamo che un unico assessorato va nella direzione di favorire proprio quell'integrazione tra dimensione servizio sanitario, sociosanitario e sociale, riconoscendo però le competenze in capo ai comuni, di cui si evidenza necessità. Uno degli elementi di fragilità del sistema era proprio un po' questo, cioè il distacco, la distanza, la difficoltà a volte anche di relazione tra le due parti, l'integrazione dei due servizi. Allora, se un unico assessorato favorisce questo percorso può essere opportuno. Certo che è in capo al Presidente di Giunta questa scelta politica. Per quanto riguarda poi invece la prevenzione, cioè ci sono dei temi che mancano, c'è per esempio la prevenzione, la cura delle malattie rare, che è tutto rimandato a settembre. Allora, diciamo che una legge di riforma pone degli elementi di governance e definisce in modo, noi ospitiamo chiaro, chi fa che cosa e come. Poi i contenuti degli interventi vanno declinati. Noi ad oggi in realtà abbiamo assistito in questi due anni in modo particolare a cambiamenti in atto nel sistema a norma, a struttura esistente. Quindi vediamo anche soprattutto la fase delicata e importante non solo nella riforma ma nella sua declinazione successiva perché è lì che bisogna trovare poi tutti gli adempimenti e gli impegni rispetto a queste tematiche, a queste materie. Allora, sono le 18.46, ci dobbiamo fermare qualche istante, c'è la pubblicità, rientriamo subito dopo con Paola Gilardoni e incontro con la Cisla, dopo. Di nuovo in diretta con Paola Gilardoni di Cisla Lombardia per parlare di riforma della sanità lombarda, critiche e proposte abbiamo ascoltato entrambi in questo primo blocco. Adesso parliamo invece della riduzione o meno di rette ticket, la cosiddetta compartecipazione perché l'invecchiamento della popolazione, l'incremento delle malattie croniche, la presenza di diverse patologie comportano un aumento del bisogno di cura. Su questo tema? Su questo tema noi siamo fermi a questo punto, noi abbiamo fatto nell'accordo, abbiamo indicato e nell'accordo del 26 settembre, quindi impegno condiviso dal Presidente di Giunta, un percorso per ridurre i ticket a partire dall'abolizione del super ticket e ad un incremento della copertura sanitaria del costo delle rette. Cosa significa? Che ad oggi le famiglie lombarde stanno sostenendo un importante costo per la sanità in termini di concorso alle spese per l'acquisto di prestazioni e servizi sanitari. Soprattutto in un momento in cui appunto il tema è quello della vulnerabilità e della fragilità delle famiglie, noi diciamo che ragionare di concorrere e contrastare la povertà significa partire da rivedere appunto questa spesa sanitaria, tanto più che gli annunci sono stati fatti, nel senso che più volte il Presidente ma anche l'assessore alla salute, l'assessore al bilancio hanno più volte confermato l'idea di avviare un percorso per rivedere la compartecipazione e la spesa dei cittadini all'acquisto delle prestazioni sanitarie. Noi diciamo che dagli annunci si passi ai fatti, tanto più che appunto l'abbiamo anche condiviso come impegno nell'accordo sindacale. Quello che vediamo con particolare preoccupazione proprio nel testo di riforma è che si fa riferimento al percorso di riduzione del ticket collegato ad un incremento del gettito fiscale. Non è per noi assolutamente possibile immaginare che si vada a ridurre il ticket per incrementare le tasse, quindi questo è un elemento che a nostro avviso va rivisto nel progetto di riforma. Quindi a nostro avviso dobbiamo riaprire un tavolo di confronto perché le idee le abbiamo, le proposte le abbiamo, si tratta da un canto quello di reperire risorse per appunto sostenere il costo del super ticket che in Lombardia si aggira intorno, sono risorse significative 135-140 milioni di euro ma con un percorso di revisione e riorganizzazione dentro il sistema noi crediamo che si possono trovare le risorse. Quindi questo alleggerirebbe una spesa in capo alle famiglie e dall'altra parte dovremmo anche avviare un ragionamento per vedere di lavorare anche sul tema delle esenzioni, per introdurre qualche principio oggettivo e di equità collegato appunto anche alla possibilità di spesa delle famiglie, soprattutto in questa fase di difficoltà economica, questo è un elemento che a nostro avviso andrebbe recuperato per perfezionare un sistema che ha i suoi elementi. Quindi un tema di compartecipazione alla spesa, quindi il ragionamento sulla compartecipazione alla spesa per recuperare principi di equità, per rafforzare in termini di coerenza il sistema e dall'altra appunto c'è un'altra questione importante legata alla cura e all'assistenza delle persone anziane, delle nostre famiglie. Noi vediamo nella nostra regione, ma come un po' in tutto il nostro paese, una evoluzione demografica, un invecchiamento importante della popolazione che si porta correlato a un aumento anche dell'incidenza delle patologie croniche e invalidanti. Sempre più nelle nostre case di riposo vi sono assistiti i nostri familiari anziani, la cui incidenza in termini di problemi sanitaria è maggiore rispetto a quella dei problemi sociali, ma ad oggi le famiglie stanno facendo carico di un importante invece costo appunto per le rette. Noi diciamo che il fondo sanitario deve adeguare la propria copertura appunto a questo andamento e a queste nuove necessità, rivedendo anche i parametri minuti di assistenza che sono di una delibera ancora del 2001. Cioè abbiamo parametri di assistenza che sono legati a una condizione di bisogno che nel tempo ha mutato le proprie caratteristiche e quindi significa riadeguare le modalità di assistenza da un canto e rivedere la copertura del fondo sanitario rispetto al costo delle rette e questo sgraverebbe appunto il costo a carico delle famiglie. Questo noi crediamo che sia un intervento fattibile, disponibile, apriamo un confronto, ragioniamo sugli elementi in campo, quindi sulle risorse, le proposte, sui tempi e affrontiamo il problema. Quindi dagli annunci, dalle proposte, passiamo a degli atti concreti. Prima ha parlato di libertà di scelta che ovviamente è una di quelle cose che voi avete sottolineato, positive. Però questa libertà di scelta si tramuta poi in un'accusa alla giunta Maroni che è quello di avere dato troppo spazio al privato. In realtà il sistema, il progetto di riforma, io parlo delle posizioni invece sindacali e della nostra posizione come CISL, noi anche nell'audizione e nei confronti con la Regione abbiamo sostenuto che l'attuale modello andava perfezionato, non rivisto e quindi confermando quegli elementi che hanno assicurato e garantito elementi di eccellenza andava appunto riordinato per recuperare quegli elementi di fragilità che in particolare lasciano le persone sole e i propri familiari con le condizioni di difficoltà, non sono sanitarie ma anche a volte sociali e sociosanitarie. Quindi i principi di libertà di scelta da un canto, di separazione del sistema tra soggetti erogatori e acquirenti noi li abbiamo confermati, riteniamo che siano da confermare nel sistema e che vada invece riordinata a quell'altro pezzo, quindi l'integrazione proprio col territorio. Certo, a questo punto dopo anni di federalismo sulla sanità, qual è il bilancio? Non parliamo della Lombardia, parliamo dell'idea di dare alle Regioni questa possibilità di gestire la sanità. La sanità è un capitolo importante del bilancio regionale, siamo all'80% dell'impegno, siamo quasi a 18 miliardi di euro nel nostro territorio. Noi riteniamo opportuno proseguire, rafforzare quegli elementi che coniugano responsabilità a programmazione e organizzazione, assolutamente, però bisogna lavorare con responsabilità rispetto alla gestione delle risorse e nel rapporto con i cittadini rispetto all'efficacia e l'efficienza appunto della qualità dei servizi. Quindi voi chiedete, in tutto questo ritenete indispensabile che la Regione riapri al tavolo di confronto per apportare le necessarie modifiche, l'ecotesualmente del comunicato, al testo di riforma e chiedono l'immediata convocazione a parte del Presidente della Regione. I segnali li abbiamo mandati, abbiamo appunto fatto e realizzato una conferenza stampa all'inizio di questa settimana e dobbiamo appunto vedere quali condizioni ci sono per provare a vedere se ci sono segnali per modificare nel senso che abbiamo esplicitato appunto il percorso di riforma, il contenuto della riforma e in particolare chiediamo l'apertura immediata di un tavolo di confronto appunto sul tema delle compartecipazioni, soprattutto in una fase in cui più volte si è esplicitato dalla politica in Regione Lombardia la volontà di intervenire per contrastare la povertà. Noi diciamo contrastiamo la povertà a partire dalla riduzione del costo che ad oggi le famiglie lombarde sostengono per la spesa sanitaria. C'è molta gente che rinuncia alle analisi, rinuncia anche al dentista, rinuncia a delle visite perché effettivamente non ha i soldi per poter pagare questi ticket. Sì, ma addirittura con l'intervento del super ticket, con la rimodulazione che si è realizzata, in alcuni casi risulta più conveniente acquisire la prestazione, cioè farsi corare da un soggetto privato non accreditato che ha un costo più basso rispetto al pagamento del ticket. Questo oltre a non far bene al cittadino, nel senso che il cittadino sceglie in base al costo della prestazione, non sceglie in base alla qualità della prestazione. Questo è l'elemento di distorsione del sistema e ricorreggere il super ticket significa anche rimettere nelle condizioni i soggetti interrogatori in una condizione di competitività che punti non sui costi ma sulla qualità. Ringraziamo Paola Gilardoni di Cis Lombardia per averci parlato. C'è una telefonata, lo prendiamo all'ultimo momento. Pronto? Sì. Buonasera. Buonasera. Mi dica. Io sono una persona che vede questa emissione e voleva sapere qualcosa per mia moglie se è possibile. Mi dica. Mia moglie ha fatto il trappianto di rene, rene policisti, è stato più di tre anni di alisi. Dopo cinque anni, quanti interventi e cose, terapie che c'è l'ha che prende pastiglie e hanno abbassato addirittura il 70%. Ha fatto interventi, dopo che hanno abbassato interventi di ultero, ha fatto interventi di faccia, ha avuto tromposa di piedi, ha avuto tutti i problemi che c'è. Sai cosa mi dicono? Tua moglie è rene, sta bene e non ha anche un punto a meno a prendere quelli 200-300 euro per far coprire le sue spese di più che altro. Grazie. Grazie. È una testimonianza drammatica. Certo. Grazie, grazie di aver chiamato. Grazie a voi per averci seguito, grazie a Paolo Gilardoni di CISL Lombardia. Grazie a voi. E poi ovviamente a seguire Nova Stadio, l'edizione lunga, la chiamiamo noi, quella che va fino a notte. Grazie, buona serata, arrivederci a voi. Grazie.